allora ragazze mi state chiedendo che significa casa di giulia finalmente ho trovato casa per questo era assente stavo facendo delle ricerche trasloghi disastri e finalmente il nostro primo pranzo a casa però ragazze ve la faccio vedere quando è un attimino un po più sistemata perché ora c'è un disastro un vero disastro però almeno una bella notizia è bellissima e ve la farò vedere comunque ve la faccio vedere faccio vedere tutto intanto c'è lei che tra una maglietta una felpa sul letto e dorme guardate che polsi che ha eccola data ciao ma tu ti svegli felice dove vai no 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 stai qui con la zia facciamo le nenne ancora dai ciao meraviglia ciao no 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 ciao meraviglia chi c'è